Cari amici, la difficile situazione nella quale ci troviamo a causa di questa terribile epidemia ci può creare notevole difficoltà per la festa di Pesach che oramai si sta avvicinando. Abbiamo già visto in precedenza come sia possibile appoggiandosi al Torah.it e imparare a cantare la Haggadah in quanto molti potrebbero trovarsi a fare un Seder diciamo con una composizione di persone completamente nuova e potrebbe esserci qualche difficoltà nel cantarla. Per questo abbiamo messo online una serie di video nei quali seguendo il testo della Haggadah si ascolta il canto veramente bello di Rav Haim della Rocca e di Rav Alberto Funaro. Pezzo per pezzo è possibile imparare a cantare la Haggadah e è anche un ottimo intrattenimento per i bambini chiusi in casa in questi giorni. Ci potrebbe essere una seconda difficoltà. qualcuno potrebbe non avere a portata di mano nel luogo in cui si trova ahimè rinchiuso in questo periodo di quarantena un Haggadah o le Haggadah necessarie per poter fare il Seder. Noi siamo qui da 22 anni in prima linea per distribuire materiale di studio materiale relativo all'ebraismo in tutti i sensi gratis e online. Quindi abbiamo naturalmente tutte le Haggadah che possono essere necessarie. La prima, che è il cavallo di battaglia quando è Pesach per il sito Torah.it è questa, l'Haggadah di Pesach con il testo ebraico e la traduzione oltre ovviamente con le note necessarie per eseguire correttamente tutti i vari passaggi. Questa Haggadah, che qui vedete stampata bene, è stata stampata in copisteria e quindi è stata stampata fronte e retro, può essere tranquillamente stampata sulla stampantina di casa in tempi brevissimi e quindi la si può rendere disponibile per il Seder di Pesach. è stata molto apprezzata in tempi normali, spero che possa essere apprezzata anche in questi tempi così brutti. Non ci fermiamo però qui, ci sono altre Haggadah disponibili nel sito che si raggiungono molto facilmente, basta entrare nella pagina, nella home page, come si dice, del sito www.tora.it e di lì si è indirizzati alla pagina di Pesach dove c'è un capitoletto Haggadah che le riporta tutte. Le riportano soltanto le varie Haggadah da poter essere stampate in casa ma ci sono anche le indicazioni per chi volesse per acquistarle al costo da un servizio print on demand in copertina rigida, in copertina morbida, in vari formati che adesso vi mostrerò. Però un'altra Haggadah importante, soprattutto per le persone che per qualche motivo nella vita non hanno potuto imparare a leggere l'ebraico, c'è questa Haggadah. È la Haggadah translitterata, è stata translitterata a suo tempo da Rav Benedetto Carucci che ci ha consentito di pubblicarla online, a beneficio di tutti e questa Haggadah è un po' come l'altra. Ci sono tutti i passi dell'aggadah translitterati in lettere latine e c'è la traduzione relativa oltre alle note per eseguire il seder. Detto questo vi voglio segnalare altre due Haggadah. Una, importante, è un Haggadah in caratteri grandi per i povenenti. Chi non ha difficoltà nella lettura, nella visione, può avvalersene e credo che sia una cosa che può trovare anche un solo caso, forse, ma può essere risolutiva e quindi ci ha fatto sempre molto piacere averla nella nostra biblioteca virtuale. Per chi si vuole lanciare qualche cosa di più carino, diciamo, c'è questa Haggadah. Io ve la mostro nella versione copertina rigida, online, disponibile in un servizio di print on demand, ma si può anche questa stampare tranquillamente in casa senza nessun problema. su una normale stampantina è una Haggadah molto carina, in quanto, oltre a riportare il testo ebraico e la traduzione, riporta anche le illustrazioni della famosa Haggadah di Trieste, che sono veramente molto belle, realizzate nel, se non vado errato, nel 1864 e sono state il primo distacco dalle Haggadah tradizionali. Praticamente questa è la prima Haggadah che è la prima Haggadah che presenta una iconografia un po' diversa. Naturalmente non è la fotocopia della Haggadah antica, ma abbiamo utilizzato le immagini e le abbiamo inserite in una traduzione, ricomponendo il testo della Haggadah l'abbiamo inserite con un testo nuovo, nuovo nel senso nuovo, ricomposto in caratteri coren e anche questa è accompagnata dalla relativa traduzione in italiano. Infine vi mostro le stesse Haggadah, tanto per darvi un'idea come si possono prendere direttamente stampate in questo servizio online che trovate sul sito, ma temo che per quest'anno ci sia poco da fare, non ci sono i tempi per farle arrivare, quindi dovete fare affidamento sulla vostra stampantina casalinga. Otterrete comunque un ottimo risultato. Passate al rassegna le Haggadah vi segnalo anche naturalmente che nel sito una quantità notevole di materiali per poter studiare, preparare e capire che cos'è la Haggadah e per poter entrare proprio nel merito. Una cosa che si può stampare facilmente sono discorsi sulla Haggadah di Jonathan Pacifici, il figlio, che nel commentare per tanti anni la parasha settimanale ha spesso toccato il tema di Besach, della Haggadah e così via. In due fascicoli, i discorsi sulla Haggadah primo e i discorsi sulla Haggadah secondo, si trovano quei commenti alla Torah che hanno una particolare rilevanza per la festa di Besach e per il Seder, per la Haggadah. Penso che sia abbastanza per questa presentazione. Auguro a tutti un Haggadah Pesach. Se avete qualche problema nella stampa, se cercate del materiale particolare o se avete qualunque altro tipo di difficoltà, potete scriverci studiacchiocciolatorah.it. ripeto, studiacchiocciolatorah.it Ancora auguri.